Tutto cambia Un nuovo canale dove intraprenderò molti video Un piccolo percorso mio personale Verso Spero un futuro Non dico partner Perché non mi interessa Lo faccio solo a scopo Creativo Un piccolo stuzzichio Un piccolo Come si dice Non mi vengo la parola adatta Un piccolo soddisfazione personale Di iniziare a fare dei video su youtube E niente Ed eccoci qua appunto Su un gioco molto conosciuto Nel mondo di youtube Nel mondo dei videogame Nel nostro mondo pixeloso di minecraft In vanilla Sulla 1.9 E io direi proprio Di iniziare questo primissimo video Con minecraft Io ho sempre sempre giocato Molto Bene Mi viene molto bene No a dire tanto Mi piace molto minecraft Ho preferito iniziare Un Gameplay Di minecraft Ita Su minecraft E direi di iniziare Iniziamo a creare il nostro mondo Survival Attivo i cheat Solo per Esclusivamente togliere Quella cazzo di Pioggia Molto fastidiosa E adesso Cerchiamo un nome La chiamiamo La chiamiamo La chiamiamo Polpetta al limone No Minecraft Ita Ita Semplicemente Creiamo il suo mondo Ci vediamo fra poco E rieccoci qua A mondo creato Siamo in Il bioma Della taiga Della taiga E Siamo in compagnia Del nostro Ironman La nostra skins fantastica Di Ironman Abbiamo già ottenuto Il nostro primo achievement Di aprire l'inventario Giocherò con I minecraft Di inglese Perché Le traduzioni italiane Mi fanno letteralmente Schifo E niente Iniziamo ragazzi Intanto mi presento Mi chiamo Come Mi presenterò Matteo Ho un'età Che non si può dire Ne ho 23 ragazzi Ne faccio 23 E niente Come al solito Minecraft lagga Non si sa il perché Ma è una cosa Provvisoria Ho già constatato Che Alla creazione del mondo Un po' lagga Dopo Dopo Torna a posto Almeno Anche una questione Mi sa di Chunk Ecco Infatti vedete qua Non lagga neanche più Invece qua In quell'altro albero qua Credo di sì Anzi Forse non lagga neanche più Esatto Piccolo lag Iniziale Niente Come Sempre All'inizio dei nostri Gameplay Purtroppo Di Minecraft Bisogna tirare giù La legna a mano Tra l'altro Questo tipo di legno Lo spurs Questo qua E' uno dei miei preferiti Dopo Il Birch Cercherò di fare Svariate cose Come vabbè A parte Delle build Esplorazione Mining Cercherò Questa volta Anche di intraprendere Una sorta Di Come si dice Giochi con redstone Mica redstone E cazzate varie Allora Adesso mi sono già fatto Un set Di Tools Con Piccone Ascia Spada E ascia E spada Piccone Due picconi Perché ho fatto due picconi Dovevo fare la pala Ma la pala E quella del meno Inizierei a Ad andare No ho sbagliato Ho fatto lo schizzo Ad andare Verso Verso Sud Rotolando Verso Sud E di Intraprendere Queste qua Non mi piacciono Per niente Qua c'è Degli alberi Che vanno già A fuoco Per caccia Della lava A quanto pare Ma io Cercherò Di Evitare Tale cosa Qua Iniziamo già A intravedere Un bioma A quanto diverso Rispetto La taiga Dei polli Inizierei a prendere Anzi Prima i polli Prendiamo Prima i polli Spero che mi sentite bene Nella posizione del microfono Polli Polli Due Solo due Mica tristezza Qua C'è dell'altra roba Non mi serve Sento dei polli Ma non li vedo Saranno qua sopra Probabilmente Bella Bellissimo Allora Iniziamo a Scavare qua Sarò un po' Il primo episodio Sarò un po' Noiosi In quanto a Mining Ricerca di Un luogo Adatto per Stabilirmi Fare la casa E Prendere I minerali Necessari Per Iniziare Questa fantastica Avventura Ho già Molte idee Da portarvi Per i futuri Iscritti Futuri Visitatori Mi piace Mi piace A me è sempre piaciuto Minecraft Mi piacciono molto I giochi open world Soprattutto I giochi di sopravvivenza Adoro anche Mi genere Fallout Da completatore Maniaco Di Fallout Finito Tutti E dico tutti Fallout Presenti In commercio Ma Non solo Borderlands Sono un gran Vigiocatore Prenduncio che Purtroppo io dovrò Registrare il sabato Perché È l'unico giorno In cui ho un po' Di quiete Tra lavoro Attività fisica E quant'altro Dove potrò Registrare Cercherò di registrare Più episodi Possibili Così da potervi Dare Una Sorta Di programmazione Lineare Dei video Se non ci sono Ci saranno Ovviamente Di vari motivi Che Pubblicherò Lascerò In descrizione Anche La pagina Facebook Del canale Che creerò Più avanti E piano piano Cercherò Di crescere Anche A modo Di fare A modo Di intraprendere La registrazione Di video Un modo Per interloquire Per parlare Con voi Di Di stare in contatto Chiederò A voi Idee Anche Idee Su cosa preferite Che io Crei Dei sondaggi Interessanti Poi vedrete E vedranno I futuri iscritti Anche perché Essendo i primi Vidi Non credo Che mi cagherà Molta persona All'inizio All'inizio sarà Sei zitto Pollo All'inizio sarà Un po' difficile Però Pian piano Cresceremo Crescerò E cresceremo Soprattutto Allora Io ho già preso I tre pezzi di lana Per farmi Il fottuto letto Vado Andiamo Continuiamo Verso sud Vedere se troviamo Delle cose Abbastanza Interessanti Qua vedo Del carbone Che prenderò Subito C'è anche Lagga Strano Neanche tanto D'altronde Cercherò Di tenermi Sui Sui 15 minuti Al massimo Per questo episodio Ho perso il conto Ma Se dovesse Prolungarsi Lo taglierò Un po' Ecco Ecco Spaccato il piccone Prendiamo la nostra Crafting Si sta già Iniziando a fare notte La cosa Non mi piace affatto Ci facciamo Il nostro Picconazzo Di pietra Che è già meglio Di quello Di legno E il chunk Che lagga In una maniera Assurda Adesso Non più C'è questi piccoli Lag Micro lag Anche perché Giro molto bene Ecco Giro su di 70 80 fps 60 fisci A volte Hai dei Infatti c'è un buco Sui 70 60 60 fisci A volte anche Dei picchi Però Dico Non ho un grandissimo PC Cioè Per registrare Alcuni Giochi Tranquillamente Non ho Assolutamente Problemi Poi A soldi Permettendo Più Più avanti Si Cercherà di Upgradarlo Questo Piccola bestiola Se avete Se volete Che io vi metta Poi le stat Del mio pc Non ci sono Poi Ulteriori problemi Ecco Inizierei a farmi La fornace Perché vedo Che Ha fame Andiamo male Allora Proporrei Di mettere Questi 8 Qua Con una carbonella Si fa Tranquillamente Mi ha detto Un secondo Guardo Da quanto Sto registrando Beh da poco Contando Il video Introduttivo Il pezzo Introduttivo Ok Primo Cosciotto Lag Perché Laghi Bravo Aspettiamo Non avevo Decidiamo brutalmente Perché tanto Non servono a niente Creerò Probabilmente Come ho sempre fatto Il mio Arem di polli Sta Taiga Ma ha già rotto Le palle Scusate il termine Di solito Io sono sempre stato Degli idea Che rotolando Verso sud Si trova qualcosa Di interessante Ma a quanto pare Non trovo Ben niente E la cosa Mi Vedo Eh Già Di qua Vedo Qualcosa Di diverso Già E la cosa Mi inizia a piacere Un po' Anche perché Mi ero già Sta Oh Che bello Oh La Vedo Dei segni Di vita E della OAC Quindi siamo Un buon punto Vabbè La canna da zucchero Poi le troveremo Ah Bizzeffole Gli squid Del carbone Sott'acqua Prenderemo Questo stone Cobb stone E tireremo via Questo pezzo di Carbone Ne approfittiamo C'è anche uno Di sotto Ma Come A finire Che muoio Vado di qua Anche perché Ne approfitto di Questo buco Naturale Ed eccoci Eccole qua Le canna da zucchero A portata di mano Le prendiamo Andiamo Continuiamo In avanti Andiamo 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 E là c'è un buco Molto interessante Delle pecore Altre pecore Di Maiali Pecore Molte pecore Molte maiali Non mi piace molto La zona Però Non dico Momentaneamente Cerco di Prenderemo Sia pecora E' vero Che nella 1.9 C'è questo Il 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 Combat No Come si Ma in Combat L'update Della 1.9 E' Sia bello Perché Ha introdotto Un sacco Di cose Come Lo scudo Che Lo faremo Anche personalizzato Come questo Il metodo Delle uccisioni Che è abbastanza Noioso Dice Oh La Darkwood Oh mio dio Cosa vedo Nei miei occhi Si sta facendo Notte Quindi Io proporrei Proporrei Di dormire Di farci un bel Bucchetto Da qualche parte Andiamo in là Mi piace Anche perché La prima notte È abbastanza Sempre Rognosa Allora Andiamo Di qua Andiamo Scusate Un attimo Ok 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 Ci siamo Quasi Ragazzi Oh Cacchio Oh Oh Qua mi piace Assai Cavolo Cazzo Cavolo 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 Vai Dai 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 Veloce 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 L'ho fatta Facciamoci due torce Perfetto Ne cacciamo una qua E facciamo un bel buchino Momentaneamente Qua Eccoci qua Faccio un altro Un altro Perché Mi sta un po' Non mi piace Un buco Facciamo un bel 3x3 Perfetto Allora Allora Facciamo Buttiamo giù Questo Questo Facciamo uno di questi Buttiamo dentro Creiamoci il nostro Bellissimo letto E perfetto E dormiamo Ragazzi Per questo primo episodio è tutto Ci vediamo nel prossimo episodio Vi invito a lasciare dei like E Ci vediamo alla prossima Ciao ciao